Con piacere che porto il saluto della Federazione Piemontese di Atletica Leggera per questa edizione nuova della mezza di Saluzzo che finalmente dopo un percorso, una rincorrere situazioni per anni si è riuscita a concretizzare è una soddisfazione credo per l'Atletica Piemontese ma per noi saluzzesi di poter finalmente avere questa mezza che tanti corridori del territorio hanno auspicato per lungo tempo. Io sono certo che il 30 marzo l'edizione numero uno di questa mezza sarà solo veramente la prima di un traguardo tagliato in questa occasione ma che andrà avanti nel tempo si unisce a tanti altri eventi del territorio di un'Atletica nel Cuneese molto vivace, molto viva che sa coinvolgere veramente tutti nell'ambito sia agonistico che non agonistico. Saluzzo unisce alla tradizione del cammino e del feedwalking del cuore questa mezza dedicata al mondo più agonistico ma con questo bellissimo intento che sarà di valorizzazione proprio del territorio. Quindi io veramente faccio gli auguri agli organizzatori anche se attraverso un mezzo tecnologico visto che mi è impossibile essere presente di persona ma sono certo che le prossime occasioni, non sarà questa credo l'ultima occasione di presentazione mi farà estremamente piacere essere presente di persona.